Sì, certo! Mamma mia, non so che domanda diretta! Abbiamo appena finito la compravendita di casa tua ai domenichetti che è stata acquistata da una coppia inglese. Abbiamo avuto un po' di intoppi tra il preliminare e il rogito causa forze maggiori, chiamiamole, perché effettivamente non è di peso né da te né dagli acquidenti ma da qualche cosina che è sotto nel mezzo e abbiamo cercato di aiutarti anche nel risolvere questi problemi. Eh sì, è stata lunga ma grazie al tuo aiuto infatti tutte e due ci siamo impegnate parecchie via per velocizzare la pratica. Eh sì, effettivamente sì perché una dopo l'altra si sono succedute delle cose inaspettatissime inaspettate però ci siamo riusciti e siamo arrivati alla conclusione. Sì, alla fine è andata bene. Mi sono molto felice. Mi dici, raccomanderesti la nostra agenzia? Sì, sicuramente. Sei rimasta soddisfatta del nostro lavoro? Molto. Allora ok? Ok. Grazie mille. Alla prossima allora. Grazie mille Lara. Ciao.